Eccoci qua con uno scoop eccezionale, abbiamo il nostro geologo Serra che ci spiegherà che questa parte che vediamo qui, dove siamo innanzitutto qui? Qua siamo a Cava D'Alica. Ovviamente questa propagine di roccia è l'ultima parte della zolla tettonica dell'Africa. Infatti questa propagine di roccia è finito a nota, è un po' con la zolla tettonica dell'Africa. Infatti questa propagine di roccia è finito a nota, è un po' con il maggiore terremoto. Ragazzi, prego, come diceva? Allora, noi andiamo e sentiremo anche che abbiamo un valbone che vuole ci racconti. No, stiamo aspettando il prossimo terremoto. Ah, ecco l'ho aspettato adesso. Sì, che vede, eh? Arriva un settone, ecco il settone che arriva. Io lo sto ingrandendo, notare il settone. Eccolo, l'asera. Non so neanche se si sente la semente. Notare i settoni che ci sono, è tutto un settone. Non so che sono 25 nodi, non so neanche se si sente la voce. Avvenito a volte. Ha, passe.